È una terra meravigliosa, sono in compagnia di Stefano Mancuso, il nostro botanico preferito, il nostro faro verde di riferimento e so, Mancuso, ti abbiamo un po' fatto un regalo, perché io so, diciamo, il legame speciale che tu hai con il Giappone. Mi ricordo la storia meravigliosa che tu hai raccontato delle piante sopravvissute a Hiroshima e anche, ovviamente, di quello splendido momento che è la fioritura dei ciliegi in Giappone. Beh, sì, il Giappone è veramente un paese che amo moltissimo, in parte perché c'è anche proprio una sede del mio laboratorio, quindi ci passavo soprattutto prima della pandemia tanto tempo, oggi un po' meno, ed è un paese che ha un rapporto con la natura molto diverso dal nostro. Mentre da noi, quando si parla di sensibilità delle piante, intelligenza delle piante, tutti un po' quei concetti, quelle cose su cui io studio da tanti anni, c'è sempre un po' di scetticismo, in Giappone questo non accade, perché c'è proprio una... Non saprei come definirla, forse lo potrei definire come una specie di spiritualità più forte, legata alle piante e alla natura. Ecco, ma nel nostro meraviglioso grande pianeta che ruolo hanno le piante? Beh, guarda, le piante sono la vita stessa, è impossibile sminuirne il ruolo, intanto lo abbiamo ricordato tante volte, rappresentano la quasi totalità della vita, l'87% della vita è fatta di piante. E sono alla base proprio della vita, tutto l'ossigeno che respiriamo viene dalle piante, e soprattutto le piante fissano l'anidride carbonica, che è quella, diciamo, quel gas malefico che noi produciamo e che poi produce il riscaldamento globale. Ma non sono soltanto questo, pensa, sono ad esempio all'origine del clima del pianeta. Per esempio stiamo vedendo l'Amazzonia. Beh, l'Amazzonia è questa enorme foresta, una delle ultime foreste primarie del pianeta, oltre a produrre ossigeno, a fissare l'anidride carbonica, ad essere il luogo in cui vive la stragrande maggioranza della vita, proprio delle specie viventi, produce il clima. Cioè le piante dell'Amazzonia traspirano, cioè assorbono l'acqua, la liberano nell'aria, lo vediamo qui, e formano proprio una specie di fiume aereo, è proprio così che viene chiamato, che pensa, porta più acqua ancora del rio delle Amazzoni, che è il più importante fiume del pianeta. Quindi l'Amazzonia di per sé genera il clima del mondo. Qualora l'Amazzonia non dovesse essere più quello che è, ma si dovesse trasformare in qualche altra cosa, a causa della nostra azione dissennata, beh, anche il clima generale del pianeta cambierebbe. Ecco, per cui voglio dire, facciamo attenzione, questo uomo avvisato, mezzo salvato. Esatto. Dite poi che non ve l'avevo detto. No, è vero. Se noi dovessimo rappresentare visivamente l'impatto che l'essere umano ha su questo pianeta, come potremmo rappresentarlo? Beh, guarda, è un'ottima domanda, perché normalmente uno potrebbe pensare, beh, ma com'è possibile che noi uomini, alla fine anche se siamo 8 miliardi, appunto lo diciamo in continuazione, siamo una frazione minuscola della vita, com'è possibile che abbiamo questo enorme impatto sull'ambiente? C'è una maniera per rappresentarlo, cioè ogni essere vivente ha una certa richiesta energetica, richiede energia in funzione della sua massa, di quanto è grande. Se io so quanto è grande un essere vivente, ti posso dire quanta energia consuma. Certo. Ora, noi però, noi consumeremmo pochissima energia per quanto riguarda la nostra massa, sarebbe una questione proprio minuscola, eppure invece ne consumiamo tantissima, perché abbiamo tutta una serie di attività, quello che viene chiamato metabolismo sociale, che fa sì che la nostra quantità di energia, e quindi di risorse, di impatto sull'ambiente sia enorme. Se volessimo visualizzarla, noi dovremmo pensare che la quantità di energia e di risorse consumata da ogni persona del pianeta, in media, è la stessa che consumerebbero due elefanti, cioè un essere grande come due elefanti. L'elefante è l'essere vivente, ecco, più grande, terrestre che conosciamo. Ognuno di noi ha una richiesta energetica doppia di questo elefante. Ora, provate a immaginare il nostro pianeta popolato da 8 miliardi di elefanti, e capirete che invece il nostro impatto è un impatto potente. Sì, beh, sicuramente sarebbe un po' crowd, che dicono gli inglesi, un po' troppo affollato. È molto. Immaginatevi, voi siete un centinaio qui oggi, 200 elefanti. Non entrerebbero. Allora, adesso tu sei il mio compagno di viaggio per tutta la puntata, rimarrai con me, commenterai con me le varie storie, i viaggi del nostro pubblico in studio, però ti ho fatto una sorpresa. L'ho fatta anche a voi la sorpresa, in realtà. Allora, partiamo da qua, vi faccio vedere chi è, chi sarà l'ospite a sorpresa, un nostro compagno di viaggio. Eccolo! Un grande applauso per Giovanni Storti! Sono entrato come un elefante, guarda. Un elefante. L'elefante, l'elefante. Buonasera. Buonasera, maestro. Ecco, prego, prego. Per lui tinchini, per me no, eh? No, per molto di più, però. Allora, perché dovete sapere, perché abbiamo fatto questa accoppiata inedita, credo, no? Che bevo. Non avevate... Inedita? No. Allora, perché di solito, ovviamente, tutti noi pensiamo, cioè, Giovanni per tutti è un mito. In Italia Giovanni è un mito, è bene. C'è il trono. Beh, sì. Un mito c'è il trono. Sì, sì, beh, questo applauso è perché... Sì. Sappiate che il vostro mito ha un mito. Un mito, ma più di uno. No, che è Stefano Mancuso, però, questa sera. Ma che meglio, ragazzi. Perché? Ci siamo. Perché Giovanni Storti è un appassionato di giardinaggio, di botanica. Posso far vedere un videoclip? Perché lui va fortissimo sui social. C'è altro che influencer. Qui grande attore, grande comico, sceneggiatore, peraltro maratoneta. Anche meno, però. Giovanni, ormai chef. Chef no. Manca. Eh, meno male, no? È grande ecologo. Ecologo. Perché rubo a tutti i veri... Allora, qua dove eri, Giovanni? Qui, ecco, questa attività che si chiamava High and Clean. Siamo partiti dal porticciolo di Genova Nervi. Siamo saliti sul Monte Moro con una sessantina di persone per fare pulizia. E abbiamo raccolto, pensate, 400 chili di immondizie. Ecco. Tra l'altro li ho portati tutti io. Tutti tu. A spalla. 400 chili. Per dire cosa lascia la gente. Appunto. Sportano come degli elefanti. Sportano come degli elefanti.